Ho tutta quanta che non tiravo fuori questa sigla, finalmente si ritorna con Amici 2024 e Mida beh è tra i grandi protagonisti del serale di questa edizione per cui direi sigla e andiamo con la notizia. Sono Riccardo Divigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo imperdibile i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Or dunque parliamo di Mida quest'oggi e beh nel corso della quinta puntata l'artista ha presentato il suo nuovo inedito. Finito il ballottaggio eliminatorio per poi salvarsi dal rischio, Mida ha cantato che passa, che strizza fortemente l'occhio ai tormentoni estivi. Beh il ragazzo si sta preparando giustamente per la stagione. Dunque il successo che Mida ha ottenuto durante questa edizione di Amici 2024 è davvero straordinario, siamo sinceri. Specialmente considerando il grande riscontro ottenuto con il suo inedito precedente, Rosso Fuoco. Questo brano è ancora presente nella top 50 di Spotify dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, giusto per farvi rendere conto eh. Con un totale di 33 milioni di streaming. C'è una cifra raga, è ancora lì, è ancora lì che dura. Inoltre ha continuato a stupire con i successivi singoli Mio D-Rai e Fight Club, rilasciati rispettivamente nel secondo e terzo round di inediti degli allievi di Amici 23 ad inizio dicembre gennaio. Insomma, scopriremo presto che cosa succederà durante il serale.